ok Raffaele tu? andiamo a servire qualcuno? no? ciao Marina! ci siamo benvenuti a casa di Raffaello vediamo se fa il maschio ok ragazzi l'altra settimana abbiamo fatto una coreografia di Dua Lipa l'abbiamo iniziato ciao Francesca, ciao Marina ciao Francesca e quindi oggi andiamo avanti ok? ripassiamo quello che abbiamo fatto ciao Monica e oddio cosa è successo? e dicevo ripassiamo quello che abbiamo fatto l'altra volta e andiamo avanti ok? che abbiamo tanti passi di fare non è facilissimo mi ricordo che in video qualcuno ha capito qualcuno o no noi andiamo avanti ok? detto questo ci scaldiamo velocemente perché abbiamo poco tempo e poi ci scaldiamo e poi ci scaldiamo Grazie a tutti 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 Tutto Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Davide Ok Adesso Mi direi di tornare a un ritmo lento Per ricominciare a studiare il pizzettino che manca Ok? Andiamo Lento lento Grazie a tutti Quattro, quattro, non vi? Ok, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. Da qui abri, lobo, e salto. Incrocia, tracca, tracca, tracca. 7, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Questa che parte? La prossima parte. 3, 4, 3, 5, 7, 1, gesta. Sinista. S. hai vinto, uno di due, due, le tre, cinza, la fine, ol' e dry, qui ora sinistra oltre tempo da qui da fra da fra la contro questa non della musica che abbiamo sentito fino adesso e non abbiamo ballato quindi io adesso rimetto la tua musica siete pronti? se dovete bere adesso mai più grazie grazie Anna a una certa età mi dimentico cosa sto facendo non per altro che ma c'è qualcosa che non si dice ci sono tante tantissime eccola facciamo vedere questa prima parte e ora la facciamo dopo iniziamo dalla parte lenta e poi stavate iniziamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti